andiamo a giocare maghi ragazzi gioco io poi qua si mette casno a sbustare io sto giocando però devo nascondere questo intanto che ecco così andiamo a giocare maghi e vediamo come se la cava intanto che i buoni moderatori mangiano io intanto ragazzi spero che stiate gradendo questa live non ce ne sarà una fino all'anno prossimo ve lo dico perché abbiamo esatto abbiamo fatto un'organizzazione incredibile ringrazio tantissimo questi ragazzi che sono stati e sono qua con me esatto e io sono anche con la caviglia ferma quota carte selvagge cioè è 70 60 e non posso se metti insieme rari e mitiche a 100 non dico che siamo un centinaio ma quasi ma siamo contro l'ho kitty vai pure a prendere le birre ma vai nella cuoca sì stasera provvederemo noi invece stasera un panino mi sa può essere può essere può essere siamo partiti piano con macchina mamma mia no ah siamo contro però una chi non è vero mai questa cosa vabbè stiamo concentrati una settimana fa lei mi ha fermato in macchina e fa ma tu potevi dirmi che c'era 12 ore guarda e io qui sto open eh e sai la preview era 12 ore sabato 21 esatto esatto e ci sono danni qui dopo fa la company beh però insomma perché noi possiamo spararla eh e riprendiamo un 1-1 e poi siamo open di fiamma di Anor forte fino a un certo punto il ragazzo eh forte fino a un certo punto sparargli quella cioè scusa sparargli in faccia e sparare quella con la fiamma di Anor no perché lui è qui era il combo e io ho bisogno di tenere fiamma per removal su pezzo che vince con la combo ok trova combo glielo spacchi subito ok ok esatto e così invece portiamo a casa due anni in più no ma era giusto perché così pesca bianca pesco adesso se lui prova a fare la combo io pesco e faccio qui aspettiamo io posso fare feri però per questo perché magari tenevi volto se no così avrei pescato anche ma c'ho questa eh sì c'ho questa per pescare l'interno si escoire il combo bello buono molto bene molto bene direi che non ho abbastanza non sono abbastanza aspettiamo a fare quello quello deve essere la chiusura qui restiamo sempre open ragazzi sempre bisogna giocare così eh maghi in certe partite è un pezzo adesso calda la squirrel fa squirrel e noi spariamo questo ecco lì deve entrare facciamo no no non deve entrare mai se entra e spari lei se entra e sparo lei lui mette segnalino sull'altra no no è giusto stai ripetendo perché è ancora un mana più che altro beh ti cazzi io tolgo può fare qualcosa con quel mana lì con quel tesoro può fare solvarden ma non fa niente in questo momento qua vinta si si no vinta è vinta perché spariamo lui peschiamo spariamo lui non lo so beh guarda cosa ti gira Mentors Guidance e poi decidi vedi cosa ti gira in base se ti trova dei botti o robe decidi cosa sparare hanno riscattato il baino biondo tortello biondo tortello biondo il baino sta giocando cioè mette il baino biondo qua non si rispetta lo streamer io l'ho detto quella reflex charge guarda chiaro no facciamo dopo dicono finalmente siamo l'ital siamo l'ital siamo l'ital sì sì a prudezza siamo l'ital siamo l'ital 1 a 0 no 1 mazzarola ho contato male quindi lui può vincere adesso se fa company se fa company e trova bene e se ce n'è un altro in mano è finita che culo però non potevamo fare diversamente ragazzi niente perdiamo la prima è il baino biondo peccato no ero off di uno e lui aveva la combo perfetta in mano va bene ci sta meglio almeno non ti ha fatto coca in faccia e ti ha girato esattamente in faccia la combo e ci aveva già in mano quindi capi si sono arrivati che avevi due messaggi ah no sono le cose vecchie perché questo è l'accountino vuoi sbustare Casno dopo 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 è perché non ho messo subito la parrucca certo perché non sono diventato Ramon Serrano prima andava benissimo perché non hai messo la parrucca è vero è verissimo siamo contro un altro no abbiamo perso ragazzi nel senso che possiamo vincere questa partita ma lui non deve fare adesso Polucranos beh trovo va bene troglielo volti no 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 perché va a rampare di mana facciamo questa e il turno dopo facciamo fiamma di Anor no no ma ce ne sono un casino eh giù ce ne sono ancora un sacco lo so lo so ma appunto per questo che portiamo poche lotte secondo me sono tutte di quella sera sono ancora tutte quelle di quella sera secondo me è un 10 un 15 su 20 sì attaccato di troll prendo matto matto sì matto quanti anni sono 1 2 3 quindi sono scarmicchimina per 4 ma cos'è questo Biden ha 3 4 7 3 10 14 14 15 ci sta ci sta ci sta e poi facciamo di chiusura pescheremo qualcosa a parte di questo possiamo ricastarla eh sì quindi io direi che facciamo botto botto su di lui esatto lui va a ciampare sicuro sì probabile reckless charge si va a ciampare per forza adesso si fa di un 11 no? ah sì non puoi andare forse lo farò anche qua eh no anche secondo me più che altro se non lo trada rischia veramente tanto ah sì infatti se non trova carne hai fatto i 15 via eh questa più questa se deve rimanere arcanista non deve guadagnare vite esatto questa più questa questa qua questo botto il botto no non puoi fare ah sì botto e ribotto esatto no non ho visto la terra non sto considerando qualsiasi terra il famoso botto e ribotto questo non cambia nulla ragazzi no assolutamente non ci ribotti botto e ribotto tra l'altro ho trovato terra base la versione di chef casno è girato meglio della versione classica signori no il famoso botto e ribotto e ribotto e chi ha detto che non si può fare monocrim budget ovviamente comunque beh allora comunque il budget fuori di testa ha una spesa fuori di testa quindi girare 5 mitiche eh sì sì ma in realtà in realtà potenzialmente puoi farne di meno nel senso che magari invece di giocare il 3x cioè scusi invece di giocare 4 per di niktos puoi giocarne magari uno in meno e prenderti il tutore che ha due c'è sylvan research mi pare che si chiama e fa tutore per niktos quindi a turno 2 usi questo spellet e poi si chiama che almeno sylvan scrying sylvan scrying esatto che fa tutore quindi potenzialmente potresti anche andare a risparmiare su quelle robe bravo davide bravo erano robe sbustate però sì 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 bravo davide diverse robe l'ho sbustata erano cose che hai trovato banalmente sbustando qualcosa si fanno davide a melli per esempio a melli ne gioco uno di main è comunque una roba che non gioco specificiamo una cosa però io nel mazzo che ho fatto ho tenuto conto di 15 rare 5 mitiche che aveva scelcasto perché sennò avrei giocato abbiamo pareggiato il contro perché io volevo fare più devotion però avrei fatto un monero completo ci proviamo ci proviamo sono 7 11 sono 13 danni io ci provo io ci provo on the play 3 4 7 e 5 12 13 14 14 14 14 chi è Gioele malissimo forse siamo contro un mirror sì questa la voglio è la mia terza terra se ha problemi anche con quella in italiano non è come te è peggio la boh vogliamo bene lo stesso esatto il problema è che abbiamo un sacco di terra che ci fanno male quanti botti hai in mano? solo botti ho tenuto la mano da solo botti non capisco e chi dice che mai che non lo possiamo giocare sto male vedete che c'è il gioco all'interno per l'attaccio ci vogliamo male qui ho po' affortellato con il rosso io ragazzi lo dico chi gioca è il ring da rossoscia bellissimi bellissimi affortellato con il rosso c'è il botto c'è il botto che fa 4 danni c'è il botto che fa 4 danni bellissimo è bellissimo bloodbord bellissimo il problema è proprio che è la stessa cosa se pesco il quarto sono little io ho deciso che non avrei mai pesato il mio non è il quarto qualcuno ha parlato di soli però facciamo prima di averlo in giamadiano eccomi io non ne voglio più vedere uno in vita mia guarda che non vi sentono da lì comunque dovete parlare qua si ma si alto un po' la voce ha sentito soul quindi ma perchè io ho detto bloodbord cos'è? ah è per cushion ok però se mi togli le creature ma ti ha fatto due danni se ti fa danno alle creature non te la tolta se ti fa danno alle creature ti fa danno anche a te facciamo una clip scusate cos'è che è successo? ma tra l'altro scusami ma che cazzata te lo faceva in faccia almeno ero lo scrai invece non ha scraiato così mi ha fatto due danni appunto apprezzatissima ha perso i due danni se è bonsato va bene tra l'altro ma perché? non facciamoci domande cos'è che ha fatto scusami ha fatto play with fire sulla simetrissa ma se l'avessi fatta in faccia scagliava anche non siamo lethal però se lui ha 4 danni lì a wizard lightning come fai a non essere pensavo che mi sparasse a lui ma scusa ma comunque wizard lightning ma non ero stappato ma che mazzo hai trovato? si ma non ero stappato se mi sparava 8 danni o più forse ero morto non lo so è un mazzo strano ma che mazzo hai trovato? lui è mono no ho capito che mazzo è è mono red che gioca con star of extinction e quella roba lì e ti spara 20 danni in faccia perché fa 20 danni alla tua creatura e ti spara 20 danni in faccia esattamente è un po' complicata però giocare anche il brush down magari si si sicuro 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 sbusta signor casno? dai sbusto allora le chiedo di passare direttamente qua su arena deve solo schiacciare adesso cosa va a piacere? il mio evento io che mangio e poi c'è un evento vostro mi sembra a quanto arrivo? ciao ciao no è dove fate il conto esatto ditemi voi quanto arrivare micchi noi ne abbiamo aperte 70 vuoi fare 100 poi ci fa tonda ci perciò 100 arriviamo ok faccio una trentina allora siamo a 33 devi attivare però la schermata di boosting oh pardon pardon mea culpa mea culpa è arrivato il momento di disegnare i punti stanno vedendo tutto? è giusto ragazzi adesso la vedo sono indeciso su cosa aprire questa è come gli ratolgo adesso cowworld ah con questa che pacchetto? che ho io? ah si si vai ma sai che grullo ho visto girare in historic controlloso combo con bard class ma sai che carino quel mazzo? cioè non so quanto performante ma è carino da vedere noi non facciamo niente qua devo fare così e morire il prossimo turno allora no tengo in difesa provo a tenere in difesa simmetri sage a questo punto quantomeno arcanista ci fa pescare se lui ha qualcosa che lo rende trampolante è finita forse ho missato l'ital forse ho missato l'ital forse dovevo attaccare con entrambi erano 6 e 6 wild car mitica forse ho missato l'ital caro no merda si attaccavo con tutte e due forse ero l'ital sei no come? eh vi facevo questa beh l'importante è che fino a noi è ora è probabile erano 6 e 6 e 12 3 no non ero l'ital rimaneva a due si a 15 non ne facevo 15 momento della verità se mi ammazza simmetri sage è finita la vita stai segnando e trampol ce l'ha qualsiasi cosa si una rara e una mitica quindi più 8 immagino che saremo morti quindi perché lui ha trampol eh c'è la speranza che non abbia roba e che lo potenziano ancora e tre carte e tre mana open due siamo a tre siamo a quattro si barca un più uno più uno e io non posso usare posso usare solo una terra no no siamo vivi vediamo cosa fa io posso fare anche botto 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 adesso eh ma si gode allora questa si questa sull'arcanist wizard lightning ribotto botto ribotto è sempre la strategia migliore è sempre botto ribotto ma infatti wizard cioè arcanist è diventato veramente ingestibile ormai nel formato è forte si deve averla fatta al push per averla fatta al push comunque removal è rischiato però però più che altro per un po' di sfiga perché in realtà al di là dei conti cioè non c'era proprio la matematica per vincere lui ha fatto quella mossa che in visual spoiler stavamo preventivando monasteries we spear prowess che prende ward è forte eh si è forte ma qualsiasi creatura che prenda ward è forte perché comunque mi costringe usare dal mana che non hai detto che io abbia esatto soprattutto perché è instant come roba quindi posso anche farti una risposta non ho fatto al push è un proteggino fortissimo caspita però col verde la sfiga è quella la sfiga è che col verde devi andare a giocare a gru e rinunci a simmetria 6 rinuncia a essere così l'avessero fatto rosso sarebbe stato fortissimo l'osso era rotto l'osso si si troppo forte l'osso era troppo forte ma anche blu era troppo forte ma anche perché veramente ci metti appunto il coso dell'orso poi si no è troppo forte c'è l'aspetto l'orso è troppo forte è varia varia sempre l'avevo mai visto mai prego purca uvi ma lei la rinuncia come andia eh va no no come andiamo come andiamo come andiamo dimmelo come andiamo più 3 l'avete segnato bene 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 segnala 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 non lo so vediamo se quanti counter avrò se avessere prive qui sarebbe il top secondo me a reprive sono meno danni ma marcia male come faccio qua a guardare quante wildcard cioè quante buste ti mancano non puoi se rifrescio si rifresciarlo ma non devi rifresciare l'assistant ma arena cioè dovresti farlo tutte e due ma se sono numeri tondi non fai prima contare 80 rare 52 mitiche madonna ma saremo a 500 buste aperte 280 205 280 305 330 45 75 400 tipo da per 510 585 buste mancano quindi beh abbiamo sbustato a metà quasi a metà si ci vogliono 12-40 secondi a busta non si vede il mio schermo vero con 40 esatto con 40 secondi a busta per quello è che ti poteva mangiare con calma senza sbustare volendo non troppo buono ok io ho dato con le mie 30 buste ho fatto un buon 11 punti con 30 buste sto morendo sto morendo dal mio mazzo ti trovo giocamarcia per qualche motivo quindi io sono a 100 già siamo a 100 ma anche i miei amici non li ho da chiedere la vi quanti punti ho con questi 11 sono comunque sotto se vuoi fare wandering mi fai andare a rifare fiamma di anor adesso dai non le faccio da una pizza tagliata se volete intanto si la vuoi eh si no per l'altro lo faccio venire appunto a sbustare o Michi se volete c'è una delle acciate che ha giocato contro questa prima contro di me che aveva grulagro tanuki si può essere che ha detto che che ha detto che che ha detto che mi ha visto nella carta del vorn la timur battle rage quella del double strike è quella lì e niente qui moriamo perchè lui riesce a fare flashback di questa io posso boltare e basta il control è molto forte il caldresso risponde veramente a tutto devi avere delle velocità assurde per uccidere devi chiudere nei primi tre c'è fatto proprio quello si è proprio che ti ha messo il risultato penso che sia il 3-2 se perdo questo e perderò perchè 5 carte contro una terra non fa nulla vabbè perchè avrà counter ma si avrà counter se ha wandering concedo direttamente ma te l'altro scusami guarda un attimo il cesso no allora l'esilio ha fatto Marcia no Dovin Sveto ha flashbackato con con Snappo no non l'ha scartato non l'ha esiliato con Marcia con Marcia ha esiliato due volte ha fatto due marce ah ok non si è esiliato in Marcia il Dovin Sveto si contro te è una mossa terribile dipende dalla mano che hai counter arti non creatura è forte dipende dalla mano che hai se hai una mano di brat te ne frega niente vero però boh Dovin Sveto guarda che mi si vede in live non mi vando di essere il birial è molto importante in questi momenti ah il birial chi vuole sbustare permesso permesso ci diamo pure sui social eh che bello grazie grazie quindi 30 caso non so buste che devo aprire io 30 buste 30 buste ah anch'io contro Cerro Torre ormai Cerro Torre è ospite fisso in questa live no mattina però la domanda è vuole prendere solo schiaffi eh beh uv vince facile contro di noi gioco uv quello di oggi che tra l'altro è la mia versione anti mago a quanto pare ah io canterato purga vero ah si ho fatto 20 danni in 3 turni ah no avevo pieno 30 buste 30 vai io direi che ne faccio 10 del drain intanto vai vai 5 punti va bene in 3 buste dai uo e due danni siamo a casa ho arrivato bellissimo vediamo cosa fa Cerro tutti in Patagonia cosa vuol dire tutti in Patagonia no no mi ha fatto molto ridere però c'è in live posso dire che andare a Parma era brutto quando c'era il ponte di Casal Maggiore puoi dire che era brutto posso dire che era un dito in un posto dove non dovrebbe stare lascio lascio 5 bello buono buono carino carino vediamo se hai il ganjo sicuro oh oh ah no unione vabbè ci sta riguadagna eh purtroppo l'ho fatto io vite importanti si chiama proprio anti mago se fa wandering è finito tu cosa stai giocando maghi lo penso a te bellissima che bella però che bella posso dire che questa art di ginger but è comunque sempre bellissima è carina è carina ok 10 buste le ho aperte dov'è che può esserci della ciccia che può uscire ovunque ovunque no sto pensi facciamo il core 2021 che magari sto con teferi ah può essere me ne mancano due io lo giocavo tanto no gemme ah ma core 2021 non puoi trovare teferi mancano solo delle carte che erano in una in una parte dell'espansione ah vabbè niente allora perché core 2021 aveva delle carte extra che potevi trovare solo nei mazzi ma cos'è che determina l'uscita della gemma o della wildcard se hai già le 4 copie della carta rara che doveva essere quella gemma lì la wildcard c'è una probabilità è sempre una probabilità ok è garantita se non 10 non tot ma ovviamente per tutto il resto è probabilità normale ok quindi ne ho aperte 15 e niente quindi direi che possiamo abbandonare il core 7 che non e vabbè 15 dai facciamo le ultime 5 con le ultime 5 di mash of the machine di cosa di cosa di mash of the machines di mash of the machines e vabbè devo dirlo devo dirlo con quell'inglesismo che anche diventiamo un canale multiculturale multiculturale non multilingue no no multiculturale tu non hai capito cosa volevo dire io eh eh vacca boio sempre a criticare multiculturale sono adesso con questo finisco queste 5 sono 20 no magari mancano 10 bellissimo bellissimo è bellissimo la parte di guarda cosa ho trovato oh fran è stato in after è lui è lui è stato in after e questo è il momento della verità questi due danni vanno rianti e mancano 10 a cosa togliamo 10 eh dai va 2 va 1 togliamole a al lord of the rings dai vediamo momento della verità no quindi il pesa cosa cosa consiste la cattura della la cattura della gadrega la si si non me l'ho colto io ando giovanni gioco la cattura della gadrega come oh io l'inghiano della gadrega scusami si guarda eh vabbè andiamo se è un altro onello un altro union of the terpatum se dovessi ricordarmi prendi pure questa gadrega stai parlando in bellezza di chi sa le modi di scherzo e infatti catrek per favore catrek cerro 30 buste belle vuote solo 5 punti male vabbè hai fatto 5 dovevo chiamarla 3 punti 58 sono quelle 4 4 sono le ultime 10 queste bisogna provare speriamo che non abbia absorb prima però c'è l'evento prima c'è l'evento di tortello è quello che lo giochi si può dire o non lo diciamo ancora no dico solamente che sono gli stessi colori tuoi di prima io ho colto allora servirà un grosso supporto morale buono niente eh vabbè andando con mettiamo qua ho po' due avete fermato lo sboosting vuoi gustare tu micchi se sei ancora in partito non so dipende come finisce questa lui ha 1 e bisogna vedere cosa pesca sono 4 se vinco questa sono 4 se no facciano 3-3 deve fare meno male che il bila non conta coi punti deve fare 1 non conta 4 ma teferi va bene contentissimi di questa cosa teferi sono 4 ma la stagione come dovrebbe sopravvivere lui o ha un altro anello in mano o se lo rimbalzo o fa solo partition su anello o ha union of the third part e lo fa dopo che stappa di tefe adesso comunque pesca di anello quindi ok e lo faccio così e il danno dello spawn ah no è è attenzione aspetta e dopo lo lanciamo a fine turno suo però stappa 2 quindi ha solo solo partition eh si no stappa 3 stappa 3 gg perché è good game perché forse ha perso ha perso yes vieni micchi prego una partita niente cerro oggi non è la sua giornata mi dispiace non lo è non lo ha giocato male però no per niente per mi aver preso contro il microfono scusate ragazzi sposto un attimo allora dobbiamo prendere 30 buste e beh 30 dirammica 15 15 vai attenzione c'è un tbalt che non fa guadagnare vita e niente e non una wikar e non una strano la mano sembra carina bisogna vedere guarda vieni quanto sto io ho 8 punti 99 che nervoso e gli altri quanto 99 io io sono 89 eh ma i versus guarda che sono tanta roba guai il carrara attenzione eccolo sì ma sono sotto i 60 punti io ma tu devi fare ancora gli eventi devi fare tutto avvocato devo giocare v contro lo faccio 0-3 lo sa bene che io sono sfigato oltremodo attenzione il jace bello che ti fa vincere il jace non è bello se non è litigarello no se non è millerello mono green enchantment attenzione mono green enchantment non so quanto posso fare non lo so dipende però se è ravnica in guerra noi accettiamo no non c'è tempo per brawl gente non chiedetevi cosa sta succedendo per favore cose strane succedono in quel del baina attenzione una vivian che forse fa schifo o forse no stiamo menando forte un mono G che non ha fatto niente in questo turno si fa una creatura ahhh ma allora è pure cheap perché non ho visto la terra doppia quindi io ho sfortunato fuori misura c'è del bianco in questo gioco col bianco cambia tutto eh con il bianco possiamo morire esatto a meno che non abbia niente in mano delle combo solo che noi siamo un po' la canna del gas se lui non fa una creatura quella è una creatura anche problematica perché fa game life e ti sconta pure le robe eh no va vabbè facciamo così se tu la spari subito giustamente il problema non si pone il problema si ponge il problema si purga attenzione pescatine anche carine penso di vinto può essere come ho detto questo mafro cosa mafro cosa pena quello che ha bevuto la birra qui dentro sono io non lei questo mafro questo mafro sopra è solo una cosa tre più quattro fa ovvero le burger sette quattro e c'è otto quattro e c'è otto oggi deve essere il tuo giorno fortunato a premio inchiaccioni quattro e c'è otto quattro e c'è otto fiamma di anor al posto di cosa di cosa cosa cioè quattro fiamme di anor bisogna giocare adesso sono fortissime credibile sono fortissime hanno nerfato nelle orchette hanno lasciato fiamma di anor pensa hanno lasciato fiamma e reprieve c'è walter mitica attenzione ma che cazzo volete voi che siete avanti anni luce inizia a mangiare bravo inizia a mangiare vado a cibarsi non va bene torga attenzione contro ruspito 128 vediamo chi? ruspito? ruspito ruspito dipende come è la mano avvocato mi sembra una mano da buttare via facciamo un po' male speriamo che non sia un mirror eccola attenzione però niente turno 1 starà conservativo per spararti il pezzo può essere se tu peschi il symmetry stage ovvio che non puoi se giocare sullo scar mage era già più fattibile è buona quella pizza qua? not bad not bad in un mirror mi hanno insegnato che bisogna fare vantaggio perché io ho la versione vecchia il posto di cosa è stata messa? il posto di mentor guidance? no mentor guidance la tieni sempre a maggior ragione adesso quando non hai più il problema di orchetto doppio botto sul mio 0-3 la mentor guidance la tieni sinceramente non ho ben chiara al momento non ricordo giusto cosa si può togliere per metterla no si opzione vabbè se giochi opzione via opzione il bairo non gioca più neanche le le spelle a 1 che ti fanno il turno gratis cosa? le spelle a 1 quelle di alchemy che ti faceva che se la castava i 4 volte ti faceva il turno gratis c'era si giocava prima poi però poi però c'è fiamma di ano poi c'è fiamma di ano ce l'ha fatta apposta per i maghi nel senso ma c'è anche il buon enigma ma ciao enigmone ragazzi mi fate uno shout out enigma put the pieces together cos'è? via 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 si i pieces together è quella che dicevi tu ah è quella lì no via eeeh altra mitica l'ultima tra l'altro perfetto ho aperto anch'io le mie 30 signori non so se te l'ho segnata un attimo adesso glia dico l'avi mi ha segnato la seconda mitica tranquilla questo mi ha fatto gratta eeeh mi ha fatto una di mano non so se al meglio no moriamo qua driver l'ho fatto si hai segnato tutto? e avete segnato la mitica di michele si si seguiamo un mago rapido siamo morti il problema di giocare magini storiche che i mirror è grave chi gira meglio o chi pesca meglio o chi ha più danni al momento o chi ti spacca il pezzo prima e tu non hai il secondo pezzo a seguire in base a come gira meglio ma ma vai è stata bravissima buonissima eh caro esistono esistono peh mangia le verdure peh devi crescere anche tu non fare il cattivo bimbo siamo morti 369 mortissimi va bene a premio ci siamo arrivati 50 punti albaina che si attrae in vantaggio non è vero non è vero e adesso dovrebbero ripartire prova a vedere cosa dobbiamo fare dove devo fare l'evento io adesso hai l'evento tu? hai visto il programma? si allora vuoi farlo qui? vai là no ma ho già fatto il login là vai se si alza il bimbo in un attimo mi sposto vai 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 vedi concluso il torneo lucca cioè il cimento 5-3 comunque ecco te a premio comunque siamo arrivati grazie oh il torneo non inizia la deludere che qua sii non inizia la deludere qua c'è una una ricca di eventi positivi e io annunerò così signori possiamo annunciarlo il mazzo che giocherà Tortello possiamo aggiungerlo micchi dove sei però loggato le hai sul mio computer perfetto allora su il mio computer andiamo a vedere il pe non so dove mettere la birra perché con voi lo metterò sotto ma vabbè c'è finito tanta di quella roba su quel tappetino lì il pe dov'è però non lo so stai trasmettendo si si non l'ho staccata da prima quindi un momento io non lo vedo però eh si stacca a dove il discorso o trasmettere vai chiamami grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti